Musica Bentornati con le consuete previsioni a cura di MeteoOne. Le condizioni meteo vanno lentamente migliorando anche sul sud Italia. Difatti, il vortice di bassa pressione che ha portato forti precipitazioni sulle regioni meridionali è ormai prossimo alla Grecia e ciò favorirà cieli più sereni su tutto il meridione. Al centro nord, tempo già stabile e mite per l'espandersi di un campo di alta pressione da occidente. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per giovedì 9 marzo. Freddo al mattino nell'entroterra ma con poche nubi e cieli sereni che ci accompagneranno per il resto della giornata. Nel pomeriggio qualche nube in più sui rilievi lucani e sul subappennino d'Auno ma senza rischio di precipitazioni. Altrove invece i cieli risulteranno sereni. Durante la sera condizioni di stabilità ovunque. Temperature stazionarie nei valori massimi in calo invece nelle minime. Venti ancora moderate o forti dai quadranti nord-occidentali specie sul Salento o Basso Adriatico. Per quanto riguarda i mali, molto mosso il canale d'Otranto, mossi i restanti mari. Ed ora ecco la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Jonathan Fiorita che ci mostra il cielo decisamente minaccioso di qualche giorno fa sui cieli di Copertino in provincia di Lecce. Se volete inviare la vostra foto del giorno vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.